Lo scorso weekend si è tenuta a Pordenone la settima giornata internazionale dello sport, evento che promuove l'attività fisica e dà visibilità alle associazioni, che in questo mese si apprestano ad iniziare la nuova stagione sportiva. Nel pomeriggio di sabato, Piazza 20 Settembre ha ospitato il Galà dello Sport, durante il quale sono stati premiati oltre 300 atleti di 27 associazioni, che nell'anno passato hanno collezionato ottimi risultati a livello regionale, nazionale e internazionale. Un premio speciale alla carriera è stato consegnato a 5 persone che si sono distinte per il loro impegno in ambito sportivo. Inoltre, è stata ufficialmente presentata alla città la seconda edizione del Piennetlon, corsa con finalità benefica per la lotta alla Duchenne, che si terrà sabato 7 ottobre lungo le vie del centro. Dopo l'ottimo risultato della prima edizione, Pordenone intende raccogliere ancora più fondi da destinare alla ricerca, coinvolgendo e sensibilizzando un numero sempre maggiore di persone. La giornata dello sport è proseguita per tutta la domenica tra Piazzetta Calderari, il parcheggio Marcolin e l'imbarcadero sul Noncello. Presso i 54 stand informativi, altrettante associazioni sportive si sono presentate al numeroso pubblico di tutte le età con esibizioni e simulazioni. Qui, bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi in una trentina di discipline, scegliendo quella a cui iscriversi nella stagione sportiva che sta per iniziare. Questa festa riscuote ogni anno un grande successo tra i più giovani ed è attesa con entusiasmo dalle famiglie. Rappresenta infatti un momento di coesione tra i vari sodalizi che si ritrovano in amicizia e diffondono la cultura dello sport nel nome di un sano divertimento. Appuntamento quindi al prossimo anno con l'ottava edizione.